Raga c'è questo ragazzo che è lì da mezz'ora che sta pensando a quale lettera a scrivere Ma è lì da una settimana in realtà Non si muove raga Sapete che ci ho messo tipo un giorno a capire che era un manichino Stiamo mangiando i gusti a cozzo Sono le 7 di mattina, volevo dirvi che ha senso il disco di platino in poco più di un mese Cosa cazzo stanno facendo? Ah, le foto sullo skate Momenti da marri di fede Questi sono i ragazzi che cercano di order a Grace's mother Ce l'avete fatta? Amore, non dire parolacce No vabbè, perché li pigliamo tutti Che carini, aspetta Noooo Buono Madonna Buono Speriamo bene No Ebbene No 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 Grazie a tutti.